Sì, anche Morgana è single e nessuno può uscire con Morgana, io sono il suo papà e non accetto lei, no, lei, ma da per esempio, sono tipo il padre delle protagoniste di 10 cose che odi di te. Regolo numero 1, niente appuntamenti con gli uomini, regolo numero 2, niente appuntamenti, no, niente appuntamenti fino ai 18 anni, una roba del genere. Chiedi a Bianca chi l'ha riportata a casa. Kat, non cambiare argomento, chi t'ha accompagnato a casa? Ora non ti arrabbiare papà, ma c'è questo ragazzo che è un grande imbecille. Per favore. E penso che vorrebbe chiederti. Ti prego, so cosa vorrebbe chiederti e credo di conoscere la risposta, no, e sarà sempre no. Quali sono le due regole della casa, numero 1, niente appuntamenti fino al diploma, numero 2, niente appuntamenti fino al diploma, d'accordo? Papà, però questo non è giusto. Vuoi sapere cosa è ingiusto? Questo vale anche per te. Stamattina ho fatto mettere al mondo due gemelli a una ragazza di 15 anni, sapete cosa mi ha detto? Sono una sgualdrina che avrebbe dovuto far mettere il preservativo al suo ragazzo? Quasi, ma non proprio. Ha detto? Avrei dovuto dar retta ai consigli di mio padre. Non è vero, non l'ha detto. L'avrebbe detto se non fosse stata sottosedativi. Possiamo concentrarci su di me un secondo, per favore? Sono l'unica ragazza della scuola che non esce. Oh no, anche tua sorella non esce. Ne ho intenzione di farlo. E si può sapere come mai? Hai mai visto i sudici screanzati che girano per la scuola? Ma tu da dove vieni? Dal pianeta dei perdenti. Certo, non da quello del guardatemi, guardatemi. Va bene, ecco come risolveremo la cosa. La vecchia regola è superata. Nuova regola. Bianca potrà uscire. Quando uscirà anche lei? Ma quella è un'aliena e se non dovesse uscire mai... Non uscirai neanche tu. Oh, mi piace. E così la notte riuscirò a dormire. Il sonno di un padre e le cui figlie non stanno fuori a farsi ingravidare. Ragazzi, recuperatevi dieci cose che odio di te. È una bellissima teen comedy con Joseph Gordon-Levitt. A caso, un giovanissimo Joseph Gordon-Levitt. Ma proprio giovane, giovane. E Heath Ledger. Guardalo qua. Ragazzi, è veramente carina dieci cose che odio di te. Che è una sorta di piglio moderno sulla bisbetica domata di Shakespeare. Magari, potrei uscire di casa con un tuo amico gatto quando lo farà anche tu suorare. Ma sono figlia unica. Allora non uscire mai. Uh, mi piace.